Averte, Domine, faces Tua a peccatis nostris, e Domine, sicuitatis nostra sere, Domine, exaudi orazione mea, e tra l'altro mezzo, saluto e venia, Dominus Popiscus, e tu spiriti tuo, orenus. Fende, quesumus, Domine Iesu Christe, Beata Maria, sempre Virgine, Acu, Beatis Nicolao, et Anna, protectoribus nostris, et Omnibus Santis Intercedentibus, istam, abamim adversitate a familia, et toto corde divi prostratum, a vostium Tuere Clementer in Sires. Quicum, Padre, et Spiritum Santo, vivis et remias in secula seculorum. Amen. Christus Crucifixus, Intercedentibus Beata Maria, sempre Virgine, Acu, Beatis Nicolao, et Anna, protectoribus nostris, nos beneditat. Etat abomni, malo, defenda. Qui, com, Padre, et Spiritus Santo, vivis et remias in secula seculorum. Amen. Ami, Christian, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.